Chi è Anna Dan? La moglie Gianni Morandi appare spesso sui social network di suo marito. Ma sai ancora poco lei. Quello formato da Gianni Morandi e Anna Dan, è una delle coppie più parlate di tutti i tempi. La cantante e sua moglie sono diventate vere star web. Grazie alle molte foto e video che le ritraggono insieme che il cantante Emilian spesso condivisioni sui social media. Qui Morandi è un sacco di arrivo e non manca mai di interagire con i molti fan che lo seguono da tutta la penisola e oltre. Con loro, l'artista interagisce rispondendo ai numerosi commenti sotto le foto e i video che condivide. Da solo o in la compagnia di sua moglie. Solo la donna ha attirato l'attenzione molti fan che vorrebbero saperne di più su lei. Si chiama Anna Dan ed è il fedele compagno di Morandi. Sempre al suo fianco e pronto ad accompagnarlo in ogni fase importante della sua vita. Capelli Bob Casetani. Occhi blu brillanti e sorriso aperto e soleggiato. La donna è davvero splendida. Ma chi veramente Anna Dan? Anna Dan. Tutto sulla moglie di Gianni Morandi secondo TPI. Anna Dan è nata nel 1957 e ha 66 anni. Manager una compagnia IT. Donna è la seconda moglie di Gianni Morandi. Così come madre Pietro. L'unica figlio della coppia. Anna e Gianni sono sposati nel 2004. Dopo dieci anni di fidanzamento. Nonostante il passare del tempo. La donna è sempre splendida e non manca mai di apparire nelle foto e nei video di suo marito sul web. Tra il cantante Emiliano e sua moglie, ci sono 15 anni differenza. Ma la giovane anima e il vivace temperamento di Morandi hanno colpito la distanza età. Puoi vederlo bene dai social media. Dove Morandi si mostra spesso nelle diverse avventure di lavoro e in la sua vita privata. Solo Anna protagonista di molti scatti e. Quando non è lei che fotografa suo marito. La donna appare ancora con formulazione della Anna. Che ora diventata una frase sui social media. Prima di Dan. Morandi era sposato con un'altra donna Laura Efrician. I due ebbero tre figli il primo. Serena. Morì poche ore dopo la nascita. Gli altri due figli. Marianna e Marco. Sono ben noti nel mondo dell'intrattenimento. Il primo genito era la moglie di Biagio Antonacci. Mentre il primo bambino maschio lavora nel campo della musica. Pietro. Figlio di Morandi e Dan. Ha anche tentato la sua carriera nel mondo musicale. Il giovane. In effetti. È un rapper con una fama discreta. Conosciuto con il nome dell'arte 13 Pietro.